Il consigliere Abate è stato intervistato nella nostra redazione e gli spunti di cui parlare sono stati molti. Fra questi, Abate ha subito smentito le voci di corridoio secondo le quali alcuni consiglieri della maggioranza sono in fermento in seguito all'abolizione del question time avvenuta nel mese di ottobre. La maggioranza è solida e resterà ancorata a quei banchi per tutto il coinquegno. Hanno interessi da difendere? Queste le parole del consigliere che rincara la dose. Nell'abolizione del question time sono stati usati metodi fascisti. È stato un atto di totale debolezza da parte del sindaco ammesso pubblicamente di non essere in grado di controllare la minoranza. Voi ci dico in corridoio, dicono che nella maggioranza c'è un po' di fermento, c'è un po' di delusione da parte di alcuni consiglieri. Insomma, lei ha conoscenza di qualcosa che sta accadendo? Io aggiungo soltanto che sono veramente di corridoio. Lei deve pensare che, io lo dico, in questo momento questa maggioranza resterà solida e compatta, ancorata a quei banchi legati ad alzare la mano ogni volta per tutto il coinquegno. Sono veramente voci di corridoio, sono compatti perché hanno interessi da difendere. Questo lo dico con tutta tranquillità, contrariamente a quello che si dice su di me. Quali sono gli interessi da difendere? L'abbiamo visto l'altro giorno nell'ultimo consiglio comunale. Addirittura hanno abolito uno strumento democratico, qual era il question time, solo perché da me proposto e solo perché evidentemente portava alla luce delle verità. Quindi di conseguenza le lascio intendere. Io, che sono iscritto a un partito dicendo destra, sono stato costretto a chiamare costoro gente che ha usato metodi fascisti nel reprimere e nel supprimere il question time. Lascio immaginare quindi, eppure, non lo so, loro continuano ad andare avanti, alzeranno sempre la mano, ancorché si spacciano di sinistra, di centrosinistra, di libertà democratica, si riempiono la bocca di tutto e di più. Ma alla fine votano addirittura l'abolizione del question time, che è uno strumento democratico, che è più democratico di così, penso che non ci sia null'altro nell'aspetto politico e partitico e consigliare di una comunità. Secondo lei è stato un atto di debolezza da parte del sindaco abolire appunto il question time? Un atto di totale debolezza, un atto in cui praticamente ha messo pubblicamente, io non sono in grado di poter controllare la minoranza che continuamente mi assilla con domande inerenti inerenti al loro territorio e di conseguenza faccio una cosa molto semplice, lo elimino proprio così alla fine praticamente non parleranno. Però dico di più, dice ma queste interrogazioni si possono fare in Consiglio Comunale? Ma tutti, e dico tutti, sappiamo che cosa significa Consiglio Comunale, c'è due sedute all'anno, sì o no, bilancio preventivo e bilancio consuntivo, ecco qu'altra seduta quando scappa perché proprio non se ne può fare a meno, quindi le nostre domande dovranno essere ridotte praticamente in due o tre volte all'anno, mentre il question time era un evento che si verificava ogni mese e di conseguenza ci stava una migliore partecipazione da parte sia di noi consiglieri comunali e sia da parte della città. Un atto di estrema e totale debolezza.